Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In Fippili per lavori di miglioramento della sicurezza, due chilometri di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e ralentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra in direzione Firenze. In A1 verso Bologna code a tratti tra Chiusi Chianciano e Aglio e tra Aglio e Firenzuola e sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandici. In direzione Roma code tra Albivio con la variante di Valico e Aglio e tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino, code a tratti tra Firenze e Impruneta e Incisareggello, rallentamenti tra Monte San Savino e Valdichiana e code a tratti tra Valdichiana e Fabro. Sempre verso Roma incidente tra Monte San Savino e Valdichiana. In A11 rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'A1 in direzione Firenze. In A12 code tra Albivio con raccordo Lucca, Viareggio e Massa in direzione Genova. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!